Maicon, arriva il traversone di Maicon, a Adriano! 1-0! E' arriva! Stankovic! 1-0 ancora Stankovic! Comincia Tiago Motta, ecco le due, con il triangolo, da di dito, che si gira dentro ancora, Martiano Motta, Tiago Motta! 1-0! Gregorio che ha fatto, incredibile, bravo! Pietro, Milito, 2-0! E si fa saltare con troppa facilità, Milito ancora dentro, Maicon! Graziano! Spettacolo puro Fabio, infrontibile, il Milan non c'è più! Stankovic! Prova lui! Degna! Stankovic! Spettacolo! Granguola anche questo di Stankovic! Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Sto nella pane dentro per è Diego Milito! Ciabate che sbaglia tutto, Milito! Diego! Alberto! Al principe! Milito! Batte Panda! Rada! 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 Gol! 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 Milito in area di rigore, Milito! E' il principe! Milito! 1-0! Parte la rincorsa di Wesley, palla dentro, attenzione! Guarda il tiro, Milito! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Attenzione Malcon, carica al destro, il tiro! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Cambiasse o cercare di terminare il rigore, abbia di contratempo e c'è il vantaggio dell'Inter, vantaggio immediato dell'Inter. E' scattato Icardi, Guarini accelera, palla sul sinistro, Guarini parte il tiro, rete, Guarini parte il tiro, rete, Guarini parte il tiro, rete, Guarini va bellissimo il pari dell'Inter. Centro Icardi, arriva il cross, Icardi tocca, come sempre, e non sbaglia. Riccardi colpisce, Riccardi colpisce, perché in area di rigore non ci sono paragone. Un cross, palla dentro, colpo di testa, e' gol, 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 e' gol. Il toro, il toro, il toro. Parte, palla per Brozo, carica il destro, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol. Lukaku! Bolo Brozovic, palla all'angolino, è battuto da Naruma. L'assistore Mosis che vuole Lukaku in area Lukaku! Chiude il derby Romelu Lukaku con il gol numero 17 del campionato è 4 a 2 per l'Inter che vince la partita